Sebastiani, sicuramente non è stata una settimana uguale alle altre? No, una settimana sicuramente non uguale alle altre, però è cambiato poco per me, perché di fatto l'impegno è rimasto lo stesso, anzi è aumentata la responsabilità per questa carica, senza mutuare o senza rubare espressioni di qualcun altro molto più importante di me. Adesso prima facevo l'amministratore operaio, adesso sono il presidente operaio. Per un pescarese doc che significato ha essere il presidente del pescare? È importante, è un motivo di orgoglio, io lo dicevo a un tuo collega in settimana, se da bambino mi avessero detto una cosa del genere avrei presi per pazzi, invece si è avverato ed è un sogno che si avvera, è qualcosa che per tutti quanti i pescaresi, per tutti quelli che poi hanno la passione per il calcio e hanno la passione per il nostro Pescara, penso che sia un sogno che si avvera importantissimo. Come si diventa presidente del pescare? È solo una questione economica o no? Ma nel caso nostro non lo è, non ci dobbiamo nascondere, noi siamo una società formata da tanti soci, da tanta gente che dà una mano per far sì che questa società vada avanti, oggi è toccata a me, in passato era toccata prima a Deborah e poi a Peppe, oggi è toccata a me perché poi di fatto il CDA mi ha riconosciuto questo titolo proprio per l'impegno profuso fino adesso, però in questo momento non si diventa certamente presidenti per un aspetto economico, si diventa per l'impegno, ma questo è un impegno mio, ma è un impegno di tutta la società. A chi si chiede perché De Cecco non è più il presidente del pescare, Sebastiani cosa risponde? Perché il presidente uscente ha manifestato la sua volontà di occuparsi di altro, quindi nella circostanza del poggio che è di sua proprietà, e giustamente il CDA ha voluto dare un segnale di questo tipo perché poi di fatto se dobbiamo essere noi a portare avanti la società è giusto che magari al timone ci sia uno di quelli che poi è ancora impegnato al 100% nella stessa. A quale presidente del passato vorrebbe ispirarsi Daniele Sebastiani? Ma senza ombra di dubbio a Vincenzo Marinelli, a parte che è mio amico, ma poi penso che sia uno di quelli che ama il calcio, che ama i ragazzi, che ama stare in questo mondo e ritengo che sia veramente una persona speciale, anzi io ho pensato a lui in questa situazione, anche se oggi lui ha degli impegni importanti nella nazionale, per cui non è detto che nel prossimo futuro non possa tornare tra di noi. L'ha confermato lui stesso, le porte sono sempre aperte, quindi Marinelli potrebbe rientrare nel Pescara dopo decenni, oltre a lui ci sono anche altri imprenditori. Sì, però la cosa più importante, e te lo dicevo prima di cominciare l'intervista, è che in questo momento, soprattutto i soci che hanno finora portato avanti questo progetto, mi ha fatto moltissimo piacere il fatto che anche quelli più piccoli, quelli che hanno delle quote più piccole, si sono preparati per poterle aumentare, per cercare di dare una mano anche in questo momento, che poteva sembrare difficoltà. Oltre al fatto che ci sono tanti imprenditori all'esterno che oggi avrebbero anche piacere di salire su questo carro, non perché sia un carro ancora fatto bene, però di darci una mano in questo momento non sarebbe assolutamente male. Non è un fatto di speculazione da parte dell'imprenditore? Ma io penso di speculazione nel calcio, ne vedo veramente poca, soprattutto in questi tempi. Secondo me è un fatto di passione e, ripeto, per me è importante che chi entra in questa avventura abbia per primo la passione, perché senza di quella non si va da nessuna parte. Quale errore non vorrebbe commettere? Ma gli errori se ne commettono sempre, quindi è difficile dire quali errori non vorresti commettere. L'errore che non vorrei commettere è di non lasciare più tardi possibile una società che abbia dei problemi, perché ritorno a qualche anno fa, quando prima di noi c'era il commendatore Antonio Oliveri, e io penso che loro abbiano fatto veramente una bella storia del Pescara, lasciando la società sicuramente in una posizione tranquilla. e quindi adesso oggi magari in qualche modo sono stati in passato anche contestati. Oggi vengono ricordati per quelli che erano i loro meriti e quindi che erano persone per bene che hanno fatto il bene a Pescara. Io spero che nel futuro questa compagine, ripeto, più tardi possibile, possa lasciare un segnale di questo tipo. Si è fatto anche il nome di Oliveri per un eventuale ritorno? Io personalmente non ho parlato con Antonio, quindi non so se lui abbia voglia e interesse di rientrare. Per noi tutti quelli che sono, l'ho appena detto, quelli che hanno nel DNA la passione per il Pescara, Antonio è uno di quelli, sono ben accetti. Chi si sente di ringraziare per essere arrivato a questo punto? Tutti quelli che hanno dato la possibilità al Pescara di arrivare dove è, perché in questa società, ho detto qualche giorno fa che io e Peppe ultimamente, ma prima ancora con Deborah e anche Antonio De Mondo e Maurizio, noi oggi rappresentiamo, rappresentavamo massimo il 30-35% delle quote, l'altro 65% è dell'altra parte. Quindi io mi sento di ringraziare in primis quelle persone che hanno fatto veramente dei grossi sacrifici in proporzione magari anche più di chi aveva le quote più alte. Se siamo qui è anche grazie a loro. Poi mi sento di ringraziare sicuramente il pubblico pescarese perché sta dimostrando di essere di un'altra categoria. E la sua famiglia? La mia famiglia la ringrazio sempre perché ha una grande pazienza con me e soprattutto mia moglie e le mie due figlie. Sicuramente sto togliendo qualcosa a loro, spero di rifarmi anche nei loro confronti. La sua figlia la mattina dopo della carica le ha detto buongiorno Presidente. Sì, sì, però io gli ho detto muoviti che andiamo a scuola.